Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saraceno da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola. Oggi ragazzi rispondo ad un signore che mi chiede, dottore, come mai non si parla granché di ipnosi alla tv, sui giornali, sui mass media? Vedo poco e nulla. E come mai i poteri forti non divulgano questa grande e potente tecnica che è l'ipnosi? E mi dice le differenze con l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola? Bene, io ho risposto in questi termini ragazzi, i poteri forti non hanno interesse a divulgare l'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola. Perché non hanno interesse? Un po' mi ricordo la storia dell'antica Roma. L'antica Roma quando conquistava uno stato, tra virgolette, una popolazione, cercava di mettere, di far sembrare quasi quasi che non fosse stata una conquista. Prendeva le tasse e faceva governare, guidare la Gallia o chi per lei ha gli stessi Galli. Un po' come anche nel 1982 l'acopuntura era considerata giarlataneria e poi è stata inglobata e adesso è una scienza. Oppure anche l'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola che non ha nulla a che vedere con l'ipnosi fuffa, l'ipnosi da spettacolo, l'ipnosi paura, neanche con la stessa ipnosi da film, bene, solo nel 1958 è stata riconosciuta dall'Associazione Medica Mondiale come Medicina Alternativa. Dove voglio arrivare con tutto ciò? Al fatto che se tu o chi per te con le parole puoi risolvere un problema o raggiungere un desiderio o soddisfare un'esigenza, mi devi dire perché, perché non farlo, perché qualcuno si oppone, perché, perché, perché esistono i miracoli della mente, chi ci guadagna a te l'ardua sentenza, l'ardua risposta, non certo a me. Detto ciò, non si parla in tv di ipnosi perché purtroppo nell'arco dei secoli e soprattutto negli ultimi tempi si affibbia la parola ipnosi, tutto il peggio del peggio, senza considerare le prove scientifiche il fatto che sia una scienza ma soprattutto sia un'arte. L'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola, ragazzi, è un qualcosa di unico al mondo perché è diverso dalla stessa ipnosi conformista e commerciale di Milton Erikson, de Velma, Brian Waste, da cui io stesso sono partito, ottima, nessuno dice nulla, ma completamente agli antipodi perché segue una logica diversa, non ti costringe a mettere gli auricolari, non ti ruba tempo in attenzione e cari, funziona anche per chi non vuole, su bambini, adulti, anziani, è un qualcosa di rivoluzionare. Quando io dopo anni da ipnotista autodidatta, ipnotizzavo sulle spiagge 10-20 persone alla volta in tutte le mie fabbriche nel mondo, i ristoranti, per strada, e ringrazio Dio ad aver avuto una moglie santa, anche se ultimamente mi sono ritirato un po', un po', perché non mi piace rubare il tempo anche alla mia famiglia e compagnia bella, bene. Ti posso garantire che quando ho incrociato nel 2008 a causa di un ictus fulminante capitato a mio padre, la dottoressa Rina Brunini su internet, a più di 11.000 km di distanza, in 30 minuti ha salvato mio padre con l'ipnosi vera e professionale di Los Angeles, Beverly Hills, allo schiocco delle dita, Rocco, alziti e cammina, con un computer ciofeco, una webcam ciofeca, bene, io lì ho esclamato wow, 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 dove ero stato. Per cui ho costruito un master a Los Angeles in ipnosi clinica e da più di 12 anni mi ipnotizzo, sono l'unico caso al mondo che si ipnotizza H24 e faccio ipnosi di ICS online, che al momento è sospesa per motivi di tempo e di impegno. Purtroppo ho altri progetti, sto lavorando, prossimamente vi farò sapere di cosa e su cosa. Come al solito ti prego di non credere a nessuna parola del sottoscritto, devi soltanto pensare che di ipnosi vuol dire tutto e vuol dire nulla, significa parole, parole pur create ad arte, ad hoc, e tutti sanno dipingere, ma non tutti sono artisti, per cui devi chiederti chi non ha interesse perché tu con la parola risolve il tuo problema anche fisico, mentale, visibile o invisibile nella tua vita. Fatti questa domanda e rispondi. Se poi vuoi capire che cos'è l'ipnosi di ICS, li puoi scaricare anche un audio mp3 di ICS, che fa il caso tuo oppure del tuo caro, che trovi sul sito internet della mia associazione i prologi associati di Los Angeles Baby Hills, che gestisce gli audio mp3 di ICS, meravigliarti del potere della tua mente e di queste suggestioni di ICS uniche al mondo. Aspetto le tue domande, dimmi cosa pensi, dammi degli spunti così possa chiarire i tuoi dubbi, visita il mio sito internet www.imprologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook, Ipnosi e Autoprosi del Dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale YouTube, Benessere Ipnosi e Soluzione di ICS del Dottor Claudio Saracino e fa share, condividi con amici e pareti, perché può essere quel quid, quella molla, chi li può cambiare la vita, seguimi anche sugli altri social, Instagram e Twitter, Benessere Ipnosi e Soluzione di ICS del Dottor Claudio Saracino, un bacio, un abbraccio amico mio, amica mia, alla prossima, ciao!